Un altro passo verso l'ammodernamento della linea ferroviaria Roma-Pescara è stato presentato il progetto degli interventi ed RFI è finita subito al centro della polemica, insorgono gli ambientalisti per un'opera definita quantomeno approssimativa, motivo del contendere la galleria che si vorrebbe realizzare sotto il monte Morrone nel parco della Maiella che rischia di contaminare le falde acquifere. Una galleria di 13 km di lunghezza, più di quella del Gran Sasso, appena a monte delle sorgenti del giardino che riforniscono l'acquedotto di Pescara, Chieti e decine di comuni della Val Pescara che già oggi hanno l'acqua razionata. Ora scavare una galleria a monte delle sorgenti è molto rischioso perché pone a rischio proprio le sorgenti. Come abbiamo visto già nel Gran Sasso abbiamo un esempio proprio nella nostra regione di danno ambientale immenso che però poi ha un impatto anche sul rifornimento degli acquedotti. È una galleria assolutamente che non possiamo accettare, non si possono mettere a rischio i diritti dei cittadini di bere acqua potabile, peraltro noi andiamo verso i cambiamenti climatici, quindi le sorgenti sono qualcosa da salvaguardare. Lì escono 1100 litri ogni secondo e quell'acqua la dobbiamo salvaguardare assolutamente. E poi vi è anche la questione della sismicità dell'area. L'infrastruttura infatti dovrebbe attraversare la famigerata faglia del Morrone, una delle zone europee a maggior rischio terremoto. Quando si muovono queste faglie non c'è solo lo scuotimento ma si può veramente rompere il terreno formando dei gradini, quindi la galleria diventerebbe inutilizzabile come avvenuto per una galleria a forche canapine nel terremoto del 2016. Si è formato un gradino e praticamente bisognerebbe abbandonare una galleria del costo di miliardi. Ecco è veramente una proposta insensata, di scarso approfondimento a progettuale e ci sorprende anche solo che sia stata presentata.